21 di noviembre del 2023 21 21 21 21 21 il marcar è complicato perché molti arboles, farolas Buongiorno, ho fatto la foto ma o meno ho potuto di poter 6.000 e già sta qui siamo con Penny Canelo vamos a vedere come lo hanno il rincone il rincone lo tiene mega sucio il rincone lo tiene sucio di fumare di come poco, di fumare questa volta di fumare venga, venga, venga mi amica Carmen sta allì con su terra venga, venga, venga vamos a ir a saludar ora vamos a recogir Grazie Venga, vamos, vamos a saludar Vamos a ver si podemos saludar a alguien Hoy dia 21 del dia De presentación de Maria Mirad, de subirse los perros Se natan las huellas, hago un perro muy grande Ya conocéis algún perro grande Por aquí, yo creo que si Pues Quien se llama presentación Es Su santo Hoy es el dia de la presentación de Maria Un nombre bastante habitual Que bueno Ya sabes Ya sabes por donde voy Ya me conocéis No podemos saludar Mira los perritos Mira los perritos Están en el pipicón Pero no podemos pasar con estos demonitos Mira No No bene venga vamos despaccio Venga, vamo a cruzar, che ora non c'è nessuno E non si ponen nerviosi Se ve che la ora che saliamo a le 7.30 è ora punta Ah, già sta la decorazione di Navidad In il puntale già sta la decorazione di Navidad Vamo Vamo Veis il autobus che c'è lì al fondo? Ese è il che dopo vengo a le 6.00 è l'autobus Vamo Venga La gente va con chaqueta La verdad è che Puede perdere tutto perché fino a oggi Mira il trambio Eh, oggi l'homos pillato in prima plana Ese asaltandose il semifero Perché venia tardi Vieni Ese asaltandose il semifero Vieni 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.